Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninet1 in Gestione dei processi industriali della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninet1. Con Uninet1 l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninet1university.net Uninet1. Nel futuro. Da sempre.